io no oh scar lol spas lol ho fatto pure uno con royal knight ho dato lo spas e lo scar spas oro lol questo è non muore merda tiene il pombo qui ma questo è mortale no è già morto guardate che bugga da terra non c'è me ho un team e te l'ha ciao guarda ma ho visto vengo a salvare il culo oh 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 chi sta sparando a uno che era sul mare cassa cosmica c'è uno qua dove sto io sicuro io sto cercando di farmi il falò si lo prendo sta sotto oh man quello che hai combinato da me ok non trovo il team ma che stai volto No dai la prendo io che vale l'ho scoperta per prima io Chi l'ha presa Non lo so Andiamo a prendere altre navicelle, vieni qua Non lo so Vai a prendere gli altri, andiamo a prendere altre navicelle Aspetta aspetta Non lo so Andiamo a prenderlo Voglio freddare C'è gente? Dove? Eh a raga Eh non vedo perchè te lo sto faccio luminoso Ma scusa perchè andate da soli no? Guarda dove mi hai lanciato il messaggio Guarda se ci rimanete morti è karma totale Ti porto da loro vedi Hai pure hike eh? Eccolo qua, è qua sotto Dove sta? Vai vai è qua sotto Ma questo è il boat Ma c'è altra gente vedi? Ha preso l'ho preso l'ho toccato l'ho preso Cosa? Ma è mio Martooo let's go C'è un merikit Già scubbine è scubbine E' più buona che c'è lo spassoro. Aspetta, prendo la Lamborghini, vieni qua, veniamo a prenderla. Ah, ah, si, si, ho l'idea, vai, vai. Aspetta, faccio il pieno, faccio il pieno. Chi è che è l'ufo, chi è che è l'ufo? Vieni. Ah no, lui è vero, ok. Faccio il pieno. No, vai sulla macchina, vai sulla macchina, mi prendo il velo. Aspetta, uno che sale con la macchina insieme a sta la stella. Uno che sale in macchina... Ah, mi salgo, giallo. Che devo fare, non c'è nessuna roba. Che devo fare, devo mettere il... Oh, Maragold c'è qua. Che cosa mi dà? Dai, scildone, 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 scildone materiali, scildone materiali. Le vende, no. Oh, qualcuno c'è rimasto secco. Oh, c'è qualcuno! Nooo. Ah no, c'è un bot. Venga, dove siete finiti? No. Uh, laser! Laser viola! Io intanto sto trovando le armi da una madonna, se vuoi che non le volete. Mi sparano. C'è gente a... A nord-est. Dammi sbaglio, dimmi. Eh, dov'ha sta macchina? Oh, sto a perdere vini. Vabbè, non mi avete lasciato a me solo qua, sei muoio. Prendimi, portami da te. Aspetta! Sto prendendo la roba. Prendimi. Prendici a tutte e due. Mi sparano. Musca tu. Eh, sai doveci salire sul camion. Sali sul camion, edo. Sali sul camion, vieni a sul camion. Ma non sei, guarda dove la zona. Sali sul camion. Sali sul camion. Sali sul camion. Guarda dove è la zona. No, c'è uno. Guarda dove è la zona. C'è che sparo con giro. Sì, bro, ok. C'è uno con giro che spargo la cappa. No, eccomi. No, due morti, due morti eccessi. Nooo, è Margold. L'ago è parzialmente lutata. Da sopra la cassa c'è ancora. Allora, Zenn, ecco. Merde, tanti materiali. Hello? Deagle. Ragazzi, ho lasciato giù il bolt. Andiamo in zona, ragazzi. Andiamo in zona. Cambia posto, cambia posto. Devi cambiare posto. Aspen. Alessio. Chi hai che spara? Sì. Far dal nord, eh? Far dove? Sì. Fai dal nord, eh? Si fai dalla nord dovesse. Si fai dal nord, ove. Ho visto uno Volare Ma se ricarico Qua sopra Salta su, devi saltare su Gli ho fatto 130 a sto qua Aveva il P90 sto qua Stavo vedendo What the fuck No regà, 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 aiuto, regà, regà Da me Regà, da me, aiuto Adesso a fare esempio Quello squadro, vai, pure sto cosa in destra, vai Ma che cavolo? Ma che cavolo, che cavolo è? Ma che cavolo, regà, oh Ma che cos'è il suo squadro, di merda Di quanto la Oh mio dio Andiamo verso di qua, andiamo verso di qua Prendiamo posizione prima di fightare Ma io pochissima vita Mi serve qualcosa Ma chi è che sta? C'ho scildone e scildini Ma dai Io c'ho scildone e scildini Però mi serve qualche cura bianca Mi serve vita e scildo Mi puoi dare, da? Un secondo Avevo una posizione sicura Come ad esempio sopra qua Usiamo la jump Perché non c'è nessuno qua C'è il falò, c'è il falò C'è il falò? Mi puoi dare shield però Quello là Prendi 3 a quello Cosa è il nemico? Sta là fuori quello che rispada 30-80 metri Pure lì 230 metri C'è uno scudone qua perché lo vuole È nuoto, è nuoto, è nuoto Tocca cazzo Lui pusha, lui pusha Non andiamo, non andiamo, stiamo di guardia No, guarda, solo io Vengono proteggi, no? 85 carabinato! C'è uno col taxi, c'è uno col taxi, c'è uno col taxi C'è uno col taxi, c'è uno col taxi C'è uno col taxi C'è uno col taxi, c'è uno col taxi C'è una macchina? Non ci credo Nooo È morto dalla zona, uno di vita Rip, rip Oddio Let's go, ego L'ho preso l'intervento Proprio trend è quello Sta solo, vedete se sta solo che lo pulita Musa che ha? AR blu Medikit, shieldini È in solo Sta facendo il medikit In volo, in volo Nooo Spesso di merda Che col bomba verde Ho capito quel nab che ha fatto Sto girato, mi ho fatto 200 E per non dare ho 200 di vita Oh, 2v2 No, 2v1v1 Uno qua Come? Dai, fai funzione No, no, no Tornete audio Tornete audio Tornete audio Tornete audio Tornete audio Scusami Bravo, Teo, continui a inviare gli scanner Vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua Questo che cazzo sta facendo? Che nab che sei Eh, mamma mia, veramente Che sfida Smirata Lo devi lasciare quando tu l'hai risaltato Non c'è fare Non molla, non molla Non c'è fare 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 Brava Un altro spassore Ok, che arriva l'altro Così fatta Venga poco No Ti è handicappata Nelic Che cazzo fai? Fai scoprire la macchina Così cadono Però tu non ti fai scoppiare pure tu Spera È sotto È sceso È sceso È sceso È sceso È sceso È sceso Non per cadere non parte le vedi ho detto appoggiate proprio a te fai sport della macchina il gioco è mk? io si è pronto